Non cedete alle lusinghe di facili guadagno, di redditi disonessi e reagite con fermezza alle organizzazioni che spostano e corrompono i giovani, i poveri, i deboli, con il cinico commercio della droga e altri crimini. Papa Francesco ha levato un forte appello per il riscatto di Napoli, troppe volte assicurata dalle azioni della criminalità organizzata, celebrando la messa in gasta a plebiscito e Contefice ha invitato quanti cedono alla corruzione e alla delinquenza a trovare la misericordia di Dio, a convertirsi all'amore e alla distuzia. Nel giorno che celebra il fiorire della primavera dinanzi al corpo che ha ispirato artisti di ogni sorta, il successore di Pietro ha ricordato che sperare è già resistere al male, è guardare il mondo con lo sguardo e il cuore di Dio. Le lacrime delle madri di Napoli, mescolate con quelle di Maria, ha concluso, sciolgano la durezza dei cuori e riconducano tutti sulla via del bene.